L'attaccante del Barcellona Vitor Roque è uno degli obiettivi del Napoli nella finestra di mercato di luglio. Il futuro di Vitor Roque resta indefinito al Barcellona. L'attaccante e il suo staff, però, hanno cambiato idea e ora accetteranno un prestito, secondo il quotidiano Sport. Questa settimana, infatti, il giornalista Gianluca Di Marzio ha rivelato che il Napoli, italiano, è un altro club interessato a ingaggiare il brasiliano. Il club italiano ha iniziato a insistere per il prestito di Roque. con possibilità di obbligo di acquisto a scadenza contratto. Nonostante tutte le pretendenti, nei piani del Barcellona resta anche Vitor Roque. Il nuovo allenatore, Hansi Flick, è un fan del giovane e spera di poterlo utilizzare nella stagione 2024-25. La squadra catalana, però, potrebbe ancora essere tenuta in ostaggio dal fair play finanziario della Liga. La chiave per il futuro del giocatore sarebbe il tesseramento. Vitor Roque, è bene ricordarlo, è stato tesserato solo all'inizio dell'anno perché ha sostituito Gavi, che in quel momento finì per infortunarsi. Adesso il centrocampista spagnolo ha recuperato dall'infortunio e verrà riacquistato dal club.